La ricerca e lo sviluppo potenziale di forme di energia pulita nei luoghi storici del territorio industriale Ternano e dell'Umbria del Sud. Questo è stato il tema del convegno andato in scena oggi intitolato Dall'energia per la fabbrica del metallo al metallo per la fabbrica dell'energia organizzato dal Centro Studi Malfatti in collaborazione con il Centro Studi Il Presidio e il Gruppo Fusione Fredda con il patrocinio del Comune. Dall'energia per la fabbrica del metallo al metallo per la fabbrica dell'energia è il titolo del convegno organizzato dal Centro Studi Malfatti in collaborazione con il Centro Studi Il Presidio e il Gruppo Fusione Fredda con il patrocinio del Comune. Il tema del convegno che è andato in scena questa mattina nei locali della biblioteca del Circolo Lavoratori Terni e via Muratori riguarda la ricerca e lo sviluppo potenziale di forme di energia pulita nei luoghi storici del territorio industriale Ternano e dell'Umbria del Sud. Una ricerca che ha un senso parlarne a Terni perché Terni già ha una sua nicchia di ricerca su tutto ciò che riguarda il metallo. Qui noi stiamo cercando di trovare forme nuove di energia proprio a partire dal metallo. Fino adesso ci siamo accontentati e spero lo faremo sempre meglio in futuro a vendere il nostro metallo, a vendere il nostro acciaio che è conosciuto in tutto il mondo. Adesso vedremo se tra le possibili vendite c'è anche quella di usare il metallo come carburante. Sembra una cosa un po' fantascientifica ma in realtà è qualcosa che probabilmente potrebbe avvenire presto. Tra i relatori Edoardo Mazzocchi, presidente del Centro Studi Malfatti, Paolo Cicchini, storico e critico d'arte, Sergio Dotto, autore del libro L'acqua motore dell'industria, Francesco Celani, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati e vicepresidente della Società Internazionale per gli Studi sulla Scienza Nucleare nella materia condensata, Ubaldo Mastro Matteo, ricercatore presso la STM Microelectronics, esperto di semiconduttori e ricerche sull'energia e Iogendra Srivastava, professore ordinario Dipartimento di Fisica Universitaria agli Studi di Perugia. La convegna è stata introdotta e moderata da Claudio Pace, tema dell'incontro particolarmente indicativo per la nostra città alle prese con una crisi che non sembra volersi arrestare. La crisi si vince solo in un modo, con l'ottimismo, lavorando, cercando sempre soluzioni nuove. Se noi perché c'è la crisi ci piangiamo addosso e cerchiamo sempre di guardare e lamentarci, penso concluderemo poco. Invece bisogna che noi tiriamo fuori quello che è nostro, cioè la voglia di creare, la voglia di essere sempre presenti sul territorio, la voglia di guardare avanti. Lo dico soprattutto per le generazioni giovani che sono forse troppo abituate a sempre dire qualcosa che non va. Cerchiamo di vedere le cose positive, cerchiamo di capire che Terni ha una grande cultura del lavoro e questa cultura del lavoro ci farà uscire presto la crisi, prima di quanto la gente pensi. Sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori.